A inseguire il suo sogno sportivo, di che riparte al servizio. Si è aperto molto bene il campo, di conversione delle palle brecche appena inferiore al 50%. Quindici trenta. Seconda palle brecche. Difficile per Vicheri affrontare le aspettative che ha avuto già da junior, ma sta imparando ad essere una professionista. Il regalo di Babos e allora conferma... Chiude nella maniera peggiore col secco... ...numero 75 o 76 se dovesse perdere questo match. Buono! Trenta. Del suo gioco... Trenta. Da troppa fredda. I risultati in doppio ne ha avuti. Quindi parliamo di una giocatrice che sa giocare di volo. È un regalo pesante. ... ... ... ... ... ... ... Quattro. 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 E poi si interpreta la partita così. 200 point, Vigri. Quattro. e alla quarta occasione si chiude il primo set almeno si libera oggi il suo modo non è produttivo sposta troppo corta, ha sempre voluto lavorare per completare la dotazione brava per otta risposta alla ricerca del vincente Il trionfo della geometria. Grazie a tutti. ha dovuto fare chilometri è successo tre volte su quattro game brava lungo l'ha praticamente persa tutta o quasi da fiducia LDR un altro grande torneo junior basta il primo seconda il primo il primo il primo però questo è un gran punto serve due prime su tre fa il 56% di punti con la seconda che risposta la prossima avversaria della Spagnola in finale corta ancora molto ci arriva riga di colpire da sopra la spalla splendido contro la messa larga risposta interlocutoria di colpire da sopra la spalla grazie a tutti